Abbiamo inizio a questo nostro sportello, il nostro modo di incontrarci, di attivarci. Noi dal circolo Acri di Manergio con i giovani che offrono il nostro paese e abbiamo pensato di instaurare un rapporto con il gruppo culturale Chirone per iniziare questo tipo di attività di un turismo non nei canoni normali, un turismo responsabile, un turismo che è rivolto specialmente ai giovani. Io ho già accennato anche ai nostri amici giovani qui di essere importanti anche alle famiglie. Sono un po' imbarazzato perché mi sento in mezzo ai giovani e non sono più abituato a stare in mezzo ai giovani. Purtroppo nel nostro circolo ci sono facce un po' più vecchie. Però il loro sorriso e specialmente la loro voglia di fare sono una spinta grossa anche per noi che ci riteniamo adulti. È proprio un modo, un'energia che esprigionano dentro, che ci coinvolge ci sprona andare avanti in questo settore. Noi siamo grati anche alle Acli che sono presenti anche con il nostro amico Fioran che è presidente del centro turistico Acli a livello provinciale e il responsabile del settore giovanile delle Acli, Davide. Abbiamo presente la nostra assessora, il signor Antonio Dallini, che ci fa molto piacere perché segue con interesse sempre di questo nostro circolo e ci sottolinea sempre l'aspetto positivo che operiamo davvero e che lei è sempre data avanti, state facendo belle cose. Ringraziamo anche la sua presenza perché non me la aspettavo oggi. c'è il presidente poi dell'associazione Chirone che pregherei venire qui e questa sarà la futura nostra accompagnatrice di sportello e sarà lei un po' la responsabile di questo nostro